Ciao bambini, oggi ci seguiamo con il gioco del gioca Allora, per creare il gioco del gioca vi serviranno Un cartellone, se non la vecchia dei due fogli Matita, burma e bonita Allora, per creare il gioco del gioca 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 Questo è il gioco del gioca che abbiamo creato Ecco come l'abbiamo realizzato Allora, abbiamo preso un cartoncino E sopra ci abbiamo disegnato una spirale Che poi abbiamo diviso in caselle E su ogni casella abbiamo scritto un numero E l'abbiamo decorata a piacere Poi abbiamo preso della pasta E abbiamo creato le pedine E se avete delle pedine a casa Potete utilizzare anche quelle E per creare il dado abbiamo preso un pezzo di carta E l'abbiamo creato E poi su alcune caselle abbiamo scritto delle frasi con delle cose da fare E le regole del gioco sono molto semplici Praticamente bisogna partire dal via Tutti insieme E bisogna lanciare il dado E in base al numero che ti esce vai avanti Poi se si capita su una casella Come questo l'abbiamo fatto Bisogna leggerla E fare quello che c'è scritto sopra E Vince che arriva per primo Allora arriva Vi facciamo un attimo vedere come si gioca Allora io lancerò il dado Viene fuori uno Quindi andrò sulla mia pedina E andrò sull'uno Dopo tocca a me Fio sempre il dado Uno E vado avanti sull'uno E dopo si va tutto avanti così Quindi lancio il dado Viene fuori due E quindi in questo caso Vado sulla casella tre Con una scritta E in questo caso La scritta è E va il numero sei Quindi io andrò al numero sei E dopo troverò il dado